Alessandra Sant'Angelo, il nuovo amministratore unico dell'azienda farmaceutica municipalizzata AFM, la società partecipata al 100% dal Comune dell'Aquila. La nomina formale è avvenuta nel corso dell'Assemblea dei Socii, che si è svolta a Palazzo Fibbioni alla presenza dell'assessore alle partecipate Carla Mannetti, delegata dal Sindaco, e dell'ex amministratore unico Giorgio Masciocchi, insieme al direttore dell'azienda Roberto Fontana. Durante l'Assemblea è stato approvato il bilancio consuntivo 2017 della AFM, che presenta un attivo di 440.000 euro e un aumento del fatturato del 2% circa. Nel corso dei lavori, ha affermato l'assessore Mannetti, abbiamo rivolto gli auguri al nuovo amministratore unico Sant'Angelo e ringraziato Masciocchi per l'operato finora svolto. I risultati fin qui ottenuti vanno consolidati e migliorati. E inoltre intenzione dell'amministrazione, ha detto l'assessore Mannetti, di verificare il funzionamento delle farmacie e per questo a breve saranno effettuati dei sopralluoghi proprio per conoscere direttamente la situazione di queste strutture. Un altro sopralluogo sarà effettuato anche sull'asilo gestito dalla AFM alla riapertura dell'anno pedagogico. Le farmacie comunali della AFM, ricordiamo, sono in tutto 7, di cui 6 nel territorio comunale dell'Aquila e Duna d'Avezzano. Grazie. 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 Grazie.